La rigenerazione urbana dei comuni delle aree montane e delle zone interne della Toscana è stata al centro dell'incontro a Firenze tra l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e i sindaci e i rappresentanti dei comuni partecipanti al bando che ha finanziato 36 progetti di recupero di edifici dismessi o zone urbane degradate con un finanziamento regionale complessivo di 10 milioni e 600 mila euro con questi obiettivi. Da una parte l'attenzione verso i piccoli comuni e quello delle aree interne che sono aree che soffrono anche di un maggior disagio e dall'altro quello di sostenere il processo di rigenerazione urbana che sappiamo essere uno dei cardini e uno degli obiettivi della nostra legge urbanistica. Molti e di vario generi i progetti di rigenerazione urbana proposti a Prato Vecchio Stia in provincia di Arezzo per esempio con 800 mila euro di finanziamento regionale è previsto il recupero di un ex edificio ferroviario da trasformare in scuola di forgiatura. Sarà una scuola in cui all'interno si potranno essere aggregate funzioni per l'artigianato e per quei mestieri che sono importanti per aree interne come noi mantenere e cercare anche di sviluppare perché comunque in aree come le nostre è fondamentale far sì che anche i mestieri di una volta come il ferro battuto, il legno, la pietra o altro abbiano anche un futuro proprio per le attività produttive in senso generale. A Pontassieve, sempre in provincia di Firenze, nel progetto di rigenerazione urbana finanziato dalla regione con 800 mila euro è inserito il recupero di una grande area vicina alla stazione. È un'area di circa due ettari di proprietà del comune che da molti anni è utilizzata solo in piccola parte come parcheggio e che necessita di essere rigenerata. Quindi il bando a cui abbiamo partecipato sembrava fatto apposta nel senso che quell'area ha bisogno di essere in parte bonificata, in parte rigenerata e l'obiettivo dell'amministrazione è quello di realizzare funzioni pubbliche. A Regnano sull'Arno, in provincia di Firenze, il progetto di rigenerazione urbana riguarda la riqualificazione dell'ex circolo del tennis a Rosano con un finanziamento regionale di 216 mila euro. Si tratta di un'importante riqualificazione di una frazione del nostro territorio, la località di Rosano, che prevede una riqualificazione di un vecchio impianto sportivo con dei nuovi parcheggi, un giardino e soprattutto una struttura che prevederà dei servizi di tipo sanitario. Quindi la possibilità dei medici della frazione di poter accedere finalmente a una situazione più che decorosa. Grazie a tutti.